All'ASD Unbroken la palestra del Conservatorio Scontrino. Nell'impianto messo a bando sorgerà un polo di pesistica per la Sicilia occidentale con un occhio all'ambito nazionale. Dopo tanti anni di chiusura la palestra troverà nuova luce. I lavori di riqualificazione inizieranno a breve. L'ASD Unbroken è praticamente un'associazione che si occupa in primis di Stenatron e di pesistica olimpica. E ormai da anni ci occupiamo di questi due sport e ci siamo specializzati e focalizzati solo e soltanto su queste discipline. Adesso chiaramente inizieranno i lavori. Cosa già immagina la tua mente all'interno di questa nuova vostra casa? Allora io già immagino i campionati italiani di pesistica, riportare una bella realtà a Trapani e poi speriamo anche quelli di Stenatron, quindi portare una realtà nazionale nella nostra città. Direttrice, finalmente questa palestra ha nuova luce. Sì, sono molto contenta di questa iniziativa in quanto dopo tanti anni in cui era il Conservatorio a utilizzarla, avendo noi una scuola media annessa al Conservatorio, ora nuovamente ci saranno tanti giovani che potranno utilizzare questi spazi. Quindi sono molto contenta che finalmente anche questo spazio verrà nuovamente riattato e utilizzato nella maniera più consona. Assessore, finalmente una palestra nuova, tra virgolette, in più per la nostra città. Sì, è un'ulteriore struttura sportiva che ci apprestiamo finalmente a far rivivere, chiaramente grazie ai privati che investiranno su questo luogo una cifra importante, a scomputo del canone, sulla base del decreto legislativo, grazie al quale abbiamo potuto pubblicare questo avviso con il quale abbiamo già affidato questa terza struttura. Peraltro siamo in procinto di pubblicarne un altro di questi avvisi con il quale cercheremo di riaprire altre strutture sportive, come abbiamo detto secondo il programma di governo. Qui la SD Unbroken realizzerà qualcosa di nuovo per la Sicilia occidentale, un polo della paesistica, un vero polo della paesistica, molto grande, molto importante e chiaramente anche insieme al Conservatorio, che in tutta questa operazione avrà un ruolo fondamentale. Questo è un posto molto importante nella nostra città, al quale io sono molto legato, al quale tengo molto, un posto da valorizzare e quindi sarà un mix di attività che qui si svolgeranno nell'ottica dell'inclusione sociale, che è la base fondamentale per riuscire anche ad avviare un percorso sociale di recupero di un quartiere molto importante come Fontanelle Milo, dove ci sono tanti problemi, ma dove stiamo cominciando, ripeto grazie all'aiuto dei privati, a mettere delle basi importanti per la rinascita, che passa anche e soprattutto dallo sport, dalla socialità e dalla cultura. Durata dei lavori. Durata dei lavori, chiaramente spero brevissima, anche perché i ragazzi sanno che già dovevamo aprire ieri, quindi dobbiamo sbrigarci, devono essere velocissimi perché la nostra città non può più attendere sullo sport, dobbiamo correre.